Guardate come sono facili da fare queste melanzane gratinate con pomodoro, le preparate in poco tempo. Tagliate a fette sottili le melanzane. Spennellate poi ogni fetta con dell'olio. Passatele nel pane grattugiato e man mano sistematele in una teglia. Fatele cuocere in forno ventilato a 180 gradi 15 minuti oppure in frigitrice ad aria a 190 gradi 10 minuti. Nel frattempo tagliate il pomodoro a fette tenete conto che su ogni melanzana ne andrà mezza fetta. Quando le melanzane saranno pronte, poi farcitele con del pomodoro e della mozzarella o della scamorza. Fatele poi riscaldare nuovamente in forno o in frigitrice in modo che il formaggio diventi filante. Grazie. 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 Grazie.